Lo avete fatto con il sangue della statua? Sì, sì, Presidente. E quindi adesso avete il volto del possessore del sangue? Sì. Vediamolo. E questo chi è? Chi è? È vivo? O è morto su una croce duemila anni fa? Vuole sentire? No, senta, senta. Che cosa sento? Senta col naso. È odore di santità.